In questa presentazione vedremo alcune funzionalità del modulo Geocat Catasto. Iniziamo col precisare che il modulo Geocat Catasto permette di importare i file pregeo. Ovviamente si tratta di una funzionalità abbastanza importante perché, come tutti sappiamo, il file pregeo costituisce uno standard di fatto tra i professionisti che si occupano di topografia catastale. Geocat permette, dicevo, di importare questi file. Per fare questo basta che creiamo un nuovo rilievo andando su questa icona in alto a sinistra e si apre la tabella che abbiamo già visto in una delle presentazioni delle impostazioni di base del programma. In questa tabella naturalmente potrei inserire i dati manualmente. Invece di fare questo, attivo questo bottone che appunto recita e importa da pregeo e il programma mi permette, vedete, di andare a selezionare o il file mdb, arc2.mdb, che è il file database che contiene tutti i libretti di pregeo a partire dalla versione di pregeo 8, oppure andare più semplicemente ad importare dei file dat classici e quindi, diciamo, possiamo navigare sul disco e andare a importare i file di pregeo.dat. In questo caso, diciamo, basta scegliere il file dat che si interessa importare e premere il bottone apri. Da qui notiamo una cosa che abbiamo visto anche nella presentazione che riguardava l'import da strumento e cioè che il programma Geocat ha inserito il file .dat di pregeo su diverse tabelle. Questo perché, diciamo, il programma considera le varie tipologie di rilievo. Quindi, in questa tabella gialla ha inserito la parte GPS, le baseline GPS del rilievo pregeo. In questa azzura ha inserito invece la parte cerimetrica. In questa verde ha introdotto gli allineamenti e squadri che ha trovato nel file pregeo. In questa tabella ha inserito i contorni, quindi le righe 7, e in questa tabella ha addirittura inserito l'eventuale attribuzione di quote mediante livellazione dal mezzo. Quindi, diciamo, qualsiasi tipo di informazione sia inserita nel file pregeo viene importata dal programma in queste tabelle e successivamente vedremo che poi il programma da queste tabelle svolge tutte le sue elaborazioni. A questo punto, diciamo, apriamo un rilievo di esempio e vediamo cosa fa il programma Geocatasto per quanto riguarda la parte catastale. Innanzitutto c'è da dire che se siamo di fronte a un rilievo di tipo catastale abbiamo a che fare con i punti fiduciali, per cui in configurazione del programma c'è una scelta che riporta come dicitura comuni e PF. Questa scelta, vedete, mi fa aprire una tabellina nella quale io posso andare a introdurre tutti i comuni sui quali opero. Naturalmente queste sono sempre tabelle che non hanno limiti, quindi posso inserire quante righe sono necessarie. E da qui, diciamo, vedete, posso andare a attribuire a ciascun comune il codice catastale e la descrizione e poi, diciamo, una volta creata la riga del comune facendo un doppio clic su quella riga posso aprire la tabella dei punti fiduciali, quindi la tabella TAF. Questa tabella appare inizialmente vuota, ma ovviamente il programma permette di importare i punti fiduciali direttamente dai file TAF scaricati dal sito dell'agenzia del territorio, per cui premendo questa icona vedete, posso andare anche qui a navigare sul disco per prelevare, diciamo, i dati della TAF. In questo caso il comune era in provincia di Belluno, per cui attivo, seleziono il file Belluno.TAF e vediamo che il programma, in questo caso, ha importato tutte le informazioni dei punti fiduciali di questo comune in provincia di Belluno avente questo codice catastale. Quindi in questa tabella ci sono solamente i punti fiduciali di questo comune con tutti i dati relativi, coordinate, quote, eccetera. Tutti i dati che poi, ovviamente, il programma userà nelle elaborazioni che riguardano il pregeo. Salviamo anche questa tabella e quindi in questo modo, diciamo, il programma permette di considerare i punti fiduciali. Vedete che poi i punti fiduciali possono essere espressi anche senza la parte riguardante il codice del comune, perché il programma, sempre in configurazione, mi permette di andare a definire i lavori. In questo caso stiamo lavorando su questo lavoro di esempio e, diciamo, una volta che io indico il comune prelevato dalla tabella che abbiamo appena visto, il programma sa che i punti fiduciali sono relativi a questo comune, e quindi non è necessario, in questo caso, introdurre il codice del comune. Un altro particolare che possiamo notare dalla tabella di inserimento dei rilievi di Geocat è che la stessa può presentare queste colonne, distanza orizzontale e dislivello, che riguardano il classico rilievo cerimetrico in cui le distanze vengono già ridotte all'orizzontale, oppure potrei, mediante sempre il menu configurazione e strumento, dire al programma che intendo, diciamo, ottenere dati dallo strumento non autoriduttore, quindi con distanza inclinata e angolo genitale. In questo caso, allora, se chiudiamo questa tabella e andiamo a riaprirla, vediamo che il programma, appunto, mi seleziona nella tabella queste nuove colonne, e quindi distanza inclinata e angolo genitale. Quindi sta a me, diciamo, decidere quale delle due tabelle utilizzare, anche se poi, a livello matematico, i dati sono esattamente equivalenti. Quindi, una volta, diciamo, inserito il mio rilievo, se voglio ottenere il libretto di Preseo da produrre in Catasto, qui è molto semplice perché basta fare clic destro con il mouse e vedete che, mediante questa scelta, il programma mi elabora direttamente il libretto di Preseo. Il libretto di Preseo viene elaborato direttamente dal programma con una serie di informazioni che vengono date all'inizio riguardanti la riga 0, la riga 9, quindi la data, il protocollo, il nome del professionista, eccetera, ma poi con tutte le righe, invece, di dettaglio del rilievo. Qui possiamo notare, poi, che il programma, il libretto di Preseo lo fa, chiaramente, in maniera molto corretta, tenendo conto, ad esempio, anche dell'altimetria, per cui, per esempio, se noi andiamo sul punto 701, vediamo che, se facciamo un doppio clic, si apre la mascherina di dettaglio di questo punto e qui vediamo che questo punto non è stato inserito mediante riga altimetrica, perché, evidentemente, non aveva bisogno dell'altimetria a questo punto, mentre, invece, se andiamo a fare un doppio clic, ad esempio, sul punto fiduciale, vediamo che, in questo caso, questo punto fiduciale è esattamente definito da una riga altimetrica. Questo perché il programma permette di configurare la creazione del libretto di Preseo mediante sempre un menu di configurazione che riguarda, in questo caso, appunto, il software Preseo. Mediante questo menu, vedete, posso selezionare la versione di Preseo, in questo caso la 10, posso impostare una serie di opzioni secondarie di cui adesso non è il caso di parlare, ma poi, soprattutto, posso andare a impostare le informazioni altimetriche. Vedete che, mediante questo riquadro, è stato impostato il programma a creare le righe 1 e 2 altimetriche quando i punti riguardano stazioni, oppure punti fiduciali, oppure punti codificati con PA, dove PA sta per punto altimetrico. Quindi, diciamo, per questo motivo, vediamo che sia le stazioni che i PF hanno sempre delle righe altimetriche. Vedete, questa riga 2 che batte una stazione in avanti ha la riga altimetrica. Quello che si diceva con quella sigla PA, che vuol dire punto altimetrico, lo possiamo notare sempre nella tabella del rilievo. Vedete che qui c'è una colonna la cui sigla C sta per codice. Questo significa che, se io in questa colonna attribuisco la sigla PA, che vuol dire punto altimetrico, otterremo che nel libretto Preseo, vedete, per il punto 601 corrispondente a questa riga, anche in questo caso avremo la riga altimetrica. Quindi, diciamo, questa è la modalità con cui il programma genera in automatico il libretto di Preseo, ovviamente completo di tutte le parti poi successive, quindi righe 4 e 5 eventualmente per gli allineamenti e squadri, le righe 6 e 7 per quanto riguarda i contorni, eccetera, le righe 8 finali se sono necessarie, con le coordinate, con le quote dei punti fiduciari. Quindi, una volta che io ho ottenuto dal programma GeoCat-Catasto il libretto di Preseo, posso decidere di trasferirlo direttamente sotto Preseo. Con questo bottone, vedete, il libretto viene trasferito, mi viene chiesto se mediante tipo di libretto S o modesta entità e se lo voglio inserire tra i libretti inseriti oppure quelli elaborati. In questo caso è sufficiente inserirlo tra i libretti inseriti, premo OK e quando mi esce questo messaggio significa che il libretto è stato trasferito con successo negli archivi di Preseo. Questo sta a indicare che se adesso noi andiamo ad aprire Preseo, vedete, adesso qui noi abbiamo lanciato Preseo 10 e andiamo a selezionare il libretto da trattare, vedremo che tra i libretti inseriti avremo proprio questo libretto con questo numero di protocollo. se torniamo al programma Geo, vedete che questo è esattamente il numero di protocollo della riga 0 del libretto di Preseo e quindi possiamo, diciamo, selezionare questo libretto ed averlo direttamente sotto Preseo se ci interessa fare successive elaborazioni per quanto riguarda il software Preseo.